Avete sempre sognato di poter mangiare il pane senza avere sensi di colpa? Beh, oggi vi presentiamo la ricetta dei vostri sogni, il pane proteico food spring. In due fette di pane, quindi circa 50 grammi, sono presenti 139 calorie, ma di questo appena 3.5 grammi di carboidrati. E la maggior parte sono invece proteine e grassi insaturi, quindi grassi che fanno bene, quelli che derivano dai nostri ingredienti premium, cioè dai nostri semi di girasole, di senape e poi gli altri ingredienti sono proteine del siero del latte. Quindi purtroppo i vegani dovranno aspettare la prossima edizione. Adesso vi mostriamo come prepararlo in 3 semplici step e in 30 minuti. Basta aggiungere 250 ml d'acqua, l'impasto proteico, tutto, come potete vedere, solo semi e proteine. E mescoliamo. Mescolate finché non ha una consistenza omeogenea e aspettiamo 30 minuti. Grazie a tutti.